ciao a tutti benvenuti in questo video dei pronostici della serie b finalmente torna l'amata serie b con la giornata numero 14 a differenza dei mondiali vi invito a giocare con me e a differenza dei mondiali appunto massimo sono qui con sto tre che non si sa cosa devo fare tre doppie massimo tre doppie giocate con me nei commenti lasciate un like se il video vi piace commentate rispondo a tutte appunto giocate con me non vi costa nulla e vediamo chi ne indovina di più l'altra volta se non sbaglio ne ho sbagliate due prendetelo col seno di poi perché non sono andato a riverificare ma mi sembra ne avessi sbagliato il massimo due massimo tre ma proprio a esagerare è andata molto bene ultimamente la serie b la becco ma arriva la serie b dopo la sosta e sapete benissimo che le soste nei campionati scusate il mio cane non so più cosa farci è la quarta volta che provo a registrare ma fa un casino che sembra un dinosauro e quindi e appunto dopo la sosta molto spesso accadono cose strane tipo serie positive che si interrompono un bari che dovrà fare a meno di chiedira eccetera 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 quindi vediamo vediamo cosa può succedere appunto vi invito a scrivere canali a capire mette mi piace commentare mi raccomando attivate la campanellina varia una notifica ogni mio video e così ci siete sempre e vi rispondo con piaceremo i commenti andiamo parma modena parma modena il derby emiliano e parma modena dai un uno ce lo azzecchiamo ce lo rischiamo un uno del parma in questo derby che comunque i derby sono sempre derby quindi chi lo sa pisa ternana pisa ternana è una partita che due mesi fa avrebbe avuto un risultato scontatissimo ma il pisa ultimamente dopo il cambio allenatore si è ripreso però è una bella ternana è una ternana che comunque ancora la sua è una ternana che sa il fatto suo e pisa ternana x2 rischiamoci l'x2 la prima doppia reggina benevento altra partita aperta 50 risultati 1 proviamo a dar fiducia alla reggina vediamo se la sosta gli ha fatto un po meglio si è ripresa un po diciamo reggina venimento 1 breccia spal altra bella partita breccia spal è una bella partita che che però diciamo vedo un x vedo un x secondo me derossi riesce a portare via un punto da breccia quindi vediamo vediamo questo x in breccia spal se uscirà cittadella cosenza 1 troviamo un 1 come bari ecco come bari nella teoria è un 2 come reggerà al bari l'assenza del suo bomber non lo so però proviamo a rischiarci un 2 del bari in quel di como frosinone cagliari ragazzi il frosinone in casa è una macchina perfetta è una macchina che non perde mai è una macchina che in casa macchina risultati su risultati non perde da tanto non so quanto ma adesso memoria non me lo ricordo vi chiedo scusa sicuramente questo campionato non ha mai perso in casa il cagliari che deve un attimo tornare in alto deve riprovare a salire un po e quindi e quindi però però io continuo a vedere un 1 del frosinone abbastanza ci do abbastanza fiducia questo 1 del frosinone e quindi non mi gioco la doppia nemmeno qui perugia genoa perugia genoa anche qui siamo di fronte a una partita che teoricamente dovrebbe essere un 2 però la palla è tonda quindi proviamo a giocare un 2 in perugia genoa sul tirol ascoli il discorso che facevo prima delle serie positive a volte fregano quindi il fatto che ci sia poi la sosta è un sul tirol che è una sorpresa in questo campionato è un sul tirol che è lassù è un bello anche vedere delle squadre così lassù inaspettate soprattutto che dopo il cambio allenatore non ne ha più sbagliata una è all'ottavo posto mentre comunque l'ascoli al nono quindi è uno scontro abbastanza equilibrato tra l'altro l'ascoli viene da tre vittorie consecutive il sul tirol viene da cinque risultati utili consecutivi quindi 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 dai dai ce l'ha questa questa è bella questa è teoricamente è un 1x mi gioco la seconda doppia se non sbaglio spero di avere detto giusto le doppie la terza forse questa è la terza doppia mi sa brescia spalla o è la seconda o la seconda o la terza forse la seconda palermo venezia palermo venezia è aperta tutti i risultati perché perché palermo venezia il palermo quest'anno mi ha mi ha mi ha fatto sbagliare un sacco di pronostici un venezia che è in crisi netta il palermo dovrebbe tornare alla vittoria magari la sosta gli ha fatto bene e quindi mi giocherei un 1 ragazzi io ho il dubbio amletico se ho messo due o tre doppie accontentiamoci di quelle che ho messo facciamo che va bene così quindi se ne ho messe due va bene due se ne ho messe tre va bene tre se ne ho messe quattro ma non credo va bene anche quattro ma direi che ne ho messe due quasi sicuramente ragazzi grazie di aver visto il video lasciate like giocate anche voi nei commenti mi raccomando giocate solo qui con me non giocatevi dei soldi divertitevi gratuitamente fatemi sapere come siete andati l'altra volta se meno voi vi ricordate se siete stati bravi come sottoscritto o meno è sempre questione di fortuna non vi affidate a quello che dico io soprattutto nei pronostici mondiali che succede l'esatto opposto di quello che dico vi invito ad andare a vedere tutti i video anche i miei dei mondiali dei post partita dei mondiali della presentazione dei gironi se vi va se non li avete ancora visti andatevi vedere la live reaction di germania giappone che è qualcosa di epico vi abbraccio di cuore vostro montaner ci vediamo con i prossimi contenuti grazie a tutti i nuovi iscritti un abbraccio alla prossima ciao